Musica In attesa della prima seduta consigliare dell'anno 2022, questi propositi per il nuovo anno in corso dei vari gruppi politici. Il Consiglio riparte dall'approvazione di un bilancio importante e poi con tutti quelli che saranno gli atti che serviranno per l'attuazione di questo bilancio e miglioramenti normativi che saranno necessari per quelle che sono le priorità che erano state della campagna elettorale che dopo un anno ancora permangono, vale a dire, la salute e il lavoro. È evidente che dovremo serrare i ritmi rispetto alle nuove programmazioni, proprio oggi abbiamo discusso sui nuovi progetti che verranno finanziati penso per quanto riguarda l'edilizia scolastica, penso alle risorse che in questo bilancio inseriremo per tutti quei progetti che invece sono fermi perché c'è stato l'aumento delle materie prime, penso a tante questioni che possono ovviamente partire subito come le progettazioni dei comuni rispetto ai loro progetti e quindi servirà poi dare una semplificazione penso della normativa urbanistica, noi chiederemo una votazione della discussione della nostra legge che semplifica l'urbanistica nei comuni, cioè fare tutte quelle cose propedeutiche che favoriscono la ripresa economica. Beh, se questi sono i presupposti facciamo una lotteria, prendiamo un sacco della tombola, tiriamo su un argomento, tutti vanno bene visto che questo bilancio fondamentalmente rimane un libro bianco da scrivere passo dopo passo per noi i temi sono gli stessi, quelli abbiamo sempre citato, turismo, aiuti al settore del turismo, aiuti allo sviluppo economico tema del sociale, vicinanza a chi ha bisogno e soprattutto occupazione e lavoro perché senza occupazione e lavoro non si riparte sono guarda caso le quattro aree su cui questo bilancio fa i tagli lineari, cioè questo bilancio a queste quattro aree taglia poi ci dicono che con l'emendamento della giunta cambierà qualcosa, l'emendamento della giunta ancora non esiste quindi ad ora continuiamo a tagliare su quelli che sono i settori sui quali invece avremmo dovuto investire. Assolutamente sanità, sociale, ambiente perché sappiamo di essere ancora molto indietro e crediamo che comunque, insomma, soprattutto sul piano rifiuti lo aspettiamo ormai da più di una legislatura e siamo estremamente indietro e i cittadini pagano fior fior di tariffe per quanto riguarda i rifiuti anche rispetto alle altre regioni d'Italia. Dobbiamo pensare di lavorare anche su tutto quello che è il mondo del lavoro lo sviluppo del territorio. Abbiamo una regione che è bellissima ma che se non riusciamo a valorizzarla e se non riusciamo ad attrarre anche dall'estero tutti i capitali, tutte quelle aziende che possono venire a investire da noi creando posti di lavoro, ovviamente avremo difficoltà a ripartire. Questo si fa anche sviluppando le infrastrutture perché la regione toscana è una regione molto grande ma spesso ha delle infrastrutture che sono vecchie di 100 anni. Rafforzare la sanità territoriale perché se è vero che il Covid ha profondamente destabilizzato tutto quello che è l'impianto della nostra struttura regionale, è vero anche che sono emerse anche quelle criticità che noi denunciavamo che sarebbero avvenute quando venne fatta la grande riforma del 2015. La distruzione, quello che c'è stato della sanità territoriale, ha molto inficiato sicuramente anche l'attività ospedaliera. Quindi riteniamo che si debba investire molto su questo, sulle nuove assunzioni e su ripristinare una sanità territoriale degna di questo nome quindi che sia in grado di seguire il paziente fuori dal momento critico che è quello invece ospedaliero che dovrebbe essere riservato temporalmente soltanto a una fase molto breve di tutta l'assistenza. E poi la scuola e poi l'ambiente, ci sono molti settori che secondo me hanno bisogno di essere potenziati. La sanità è uno di quelli su cui bisogna fare una particolare attenzione. Anche per l'anno 2021 si è assegnato il prestigioso premio organizzato dal Corico Medella Toscana che va con lei e che risulta la più giovane direttrice di un quotidiano. Oggi alla guida della nazione dal 2019. Annesi Pini, nata a Carrara, si aggiudica così la quinta edizione del Comunicatore Toscano dell'Anno. Anche quest'anno il Corico Medella Toscana premia con lei o colui che consideriamo il Comunicatore Toscano. Lo abbiamo fatto negli anni passati, per esempio con il grande fotografo Massimo Sestini, con Jacopo Melio, con Elena Favilli, autrice di Storie della Buonanotte per bambini ribelle. Quest'anno ci sembrava giusto premiare Agnese Pini, giovanissima direttrice del giornale più storico della nostra Toscana, della nazione, che dirige il giornale in un momento molto complicato per la carta stampata, ma che cerca di guardare alla comunicazione in un modo estremamente originale, moderno. La rivista Forbes l'ha considerata una delle cento donne più influenti nel nostro paese e allora ci sembrava giusto che una giornalista di questo talento avesse anche il riconoscimento del Corico Medella Toscana e oggi con grande piacere gli conferiamo il premio di Comunicatore Toscano dell'Anno. Assieme premieremo anche due giovani laureate in Scienze della Comunicazione, una dell'Università di Siena ed una dell'Università di Pisa, Anna Buccero con una tesi su Silvia Romano e Maria Cascone con una tesi su Facebook che mi ha portato a Lampedusa. È il significato più bello e più importante perché ricevere un premio intitolato al Comunicatore Toscano, alla comunicatrice in questo caso, davvero appare come un bellissimo regalo di fine anno, quindi sono davvero grata al Corico per aver pensato a me per questo riconoscimento così bello e prestigioso che arrivando a casa propria assume chiaramente un significato ancora più intimo, profondo e importante. Come detto, Pini ha la guida della nazione in un periodo difficoltoso che, come lei afferma, va vissuto cogliendo tutte le possibili opportunità. Con grande entusiasmo, grande fatica perché è un momento difficile questo per l'informazione in generale, per la carta stampata in particolare, è un momento di grande trasformazione industriale, quindi con tutte le incognite del caso, le difficoltà del caso, ma proprio per questo è entusiasmante perché si ha la sensazione appunto di attraversare un momento storico per la nostra professione, quindi va vissuto nel migliore dei modi possibili cogliendo tutte le opportunità del cambiamento insieme alle difficoltà. E la direttrice ancora afferma, dialogo tra giornale e lettori, punto fondamentale per il nostro quotidiano. Da un mese più o meno abbiamo inaugurato una nuova rubrica che esce proprio a pagina 1 e a pagina 2 del quotidiano, quindi ha una grande importanza, il posto d'onore che è proprio legata al dialogo tra giornale e lettori e dà grande soddisfazione. Mi sembra, spero, da entrambe le parti, a me moltissima, e mi auguro che anche i lettori che trovano le risposte sul giornale, le loro domande, i loro messaggi, siano altrettanto soddisfatti e contenti di questa chiacchierata quotidiana che ci riusciamo a fare. Sono davvero orgoglioso di poter premiare Agnese Pini, una donna impegnata, una donna che sta cambiando anche il modo di fare comunicazione. Credo il Corecom abbia fatto una scelta davvero giusta. Oggi bisogna investire molto sull'informazione. In un tempo in cui le fake news corrono veloci sulla rete, avere qualcuno che in maniera critica riesce a dare punti di vista anche diversi, aiuta la democrazia. Credo che noi dobbiamo investire sempre di più per sostenere il servizio pubblico locale a livello delle capacità delle emittenti locali, dei giornali locali, di esprimere un pensiero critico. Aiuta la politica e aiuta i cittadini. Su questo non ci possono essere passi indietro e non possiamo voltarci dall'altra parte. È una sfida non semplice, in un tempo in cui la comunicazione sta cambiando, ormai sempre più si lavora sulla rete e sempre più la notizia richiede tempi rapidi, come voi sapete molto bene. Nel corso dell'evento, come già sottolineato dal presidente Brogi, sono stati anche premiati i vincitori in exequo del bando di concorso per la miglior tesi di Laura Magistrale in Comunicazione in Toscana, anch'esso promosso dal Corecom e giunta la quinta edizione. Le vincitrici sono Arianna Buccero e Miriana Cascone, che dividono anche un assegno di 4.000 euro. Presentato a Palazzo del Pegaso, il libro fotografico di Tommaso Teora sulla terribile alluvione che colpì la Garfagnana e la Versilia. 25 anni fa, in 320 scatti, la tragedia è la ricostruzione di Cardoso e Fornovolasco. È non solo un ricordo della tragedia che 25 anni fa colpì l'alta Garfagnana e che ha segnato la vita di tanti di noi. Io ricordo quelle immagini, ero un giovane studente che viveva in Basilicata, quelle immagini che fecero il giro d'Italia e che ci raccontarono la devastazione che portò a 14 vittime di uno dei più tremendi alluvioni che abbiamo vissuto. È un monito perché ci dice anche qual è la strada da investire. I cambiamenti climatici ormai sono così grandi e forti che richiedono che le istituzioni facciano la loro parte, la loro parte per tutelare la salute dei cittadini, la loro parte per evitare che quello che è accaduto non accada mai più. Questo è l'impegno e il monito che noi ci portiamo e che questo libro lascia a chiunque di noi oggi guida le istituzioni, delle immagini forti, delle immagini belle, delle immagini che nella loro durezza segnano però davvero la vita di tante cittadine e di tanti cittadini. 320 fotografie che oggi rappresentano una testimonianza di quei fatti tragici. Io come Regione Toscana devo sottolineare che quell'evento segnò un cambio di rotta, un cambio di passo rispetto all'organizzazione della progettazione civile, diventò un vero e proprio modello. La Regione Toscana fu pronta a intervenire, si fu in grado di dare una risposta a quei territori efficaci ed efficienti in tempi brevissimi. Oggi portiamo l'eredità nei piani e nei progetti della Regione Toscana e cerchiamo in questo senso proprio di lavorare soprattutto nella fase di prevenzione attraverso, voglio dire, un lavoro capillare che la Giunta sta portando avanti insieme al Consiglio. Sono 320 fotografie fatte in quei tempi, in due anni, con 17 viaggi. È stato un lavoro enorme, enorme perché sono 320 diapositive che ho dovuto scannerizzare e chi è del mestiere sa benissimo che la diapositiva col tempo si deteriora e crea problemi, polvere, peli, eccetera. Però nel compenso ho avuto un buon lavoro. La scelta da parte della Casa Editrice di pubblicare questo libro è stata una scelta importante perché oltre a raccogliere una memoria che è stata una memoria tragica e terribile, ha costruito attraverso questo libro la possibilità di osservare cosa accade nel territorio, nei territori quando arriva una tragedia del genere e cosa poi succede successivamente. Cioè quindi le possibilità, le opportunità che nascono da una grande tragedia. Quindi abbiamo visto che il territorio è stato poi laboratorio per buone pratiche e per una buona ricostruzione. A Palazzo del Pegaso cerimonia del Premio Innovazione Toscana 2021. Il premio, 15.000 euro al primo classificato e 5.000 euro al secondo, ha come obiettivo quello di sostenere e valorizzare progetti di esperienza imprenditoriali di successo che nel corso degli ultimi 24 mesi si siano adoperati per il rafforzamento delle radici e delle filiere locali e si siano distinti per aver contribuito allo sviluppo del territorio toscano attraverso una crescita quantitativa e qualitativa delle proprie attività e una forte attenzione all'occupazione, soprattutto giovanile, e ai percorsi di transizione in chiave digitale e di sostenibilità ambientale. Otto i progetti premiati finanziati in quattro sezioni per le start-up innovative, ricerca e sviluppo e innovazione digitale, brevetti e sezione speciale 2021 sostenibilità ambientale. È stato assegnato poi inoltre anche un premio speciale dedicato ai giovani e sono stati menzionati con una targa ai terzi classificati. È un premio molto importante, ha avuto una grande partecipazione, oltre 50 persone che hanno partecipato, molte start-up e con sorpresa anche molte donne. È un premio nato ovviamente dalla regione toscana in collaborazione con Confindustria, abbiamo lavorato insieme, abbiamo scoperto che c'è anche in questa nostra Toscana tanta voglia di fare ricerca e raggiungere obiettivi concreti, addirittura qualche luna è arrivato anche a fare un progetto definitivo da mettere a terra, quindi siamo veramente contenti e orgogliosi di poter oggi premiare coloro che hanno vinto nelle loro varie categorie. Abbiamo avuto 53 candidature raccolte, di queste 53 molte di elevatissima qualità e molte che sono arrivate dalle start-up innovative. Abbiamo avuto due poli territoriali di concentrazione delle domande, tra Firenze e Pisa, ma abbiamo avuto soprattutto, questo è il messaggio a cui tengo molto, una partecipazione entusiasmante da parte di imprese geniovanili e imprese femminili, ma non soltanto partecipazione, lo vedremo più tardi anche a livello di progetti vincitori che si sono molto ben classificati. Altro elemento sicuramente interessante è che al di là della categoria del premio, erano quattro le categorie, la tematica prevalente è stata quella che veramente ci proietta verso il futuro e anche verso il presente, quindi la salute, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la sostenibilità che sono stati centrali in tutti i progetti finanziati e anche presentati. Sappiamo benissimo che questo non è il premio economico ad avere maggiore significato, ma è la strada da perseguire, il sentire le istituzioni vicine, il sentire le istituzioni attente alle stanze che arrivano da chi fa ricerca e da chi cerca di costruire un mondo migliore. Sono contento che i temi trattati dalla transizione digitale, i temi della transizione ambientale, siano al centro anche di questo lavoro, perché la Toscana che vogliamo costruire nel futuro è una terra che parte dalla sua storia, dalla sua bellezza, dalla qualità delle sue imprese che ogni giorno operano, ma cerca di costruire una strada nuova per anticipare il progresso. Grazie a tutti! Grazie a tutti!